L'inverno è ormai arrivato e si sa, quando si ha la guida la prima cosa, quando fa freddo, è pensare sempre alla sicurezza. Ecco allora una soluzione presentata da Yokohama nel campo delle gomme. Le nuove Blue Heart V905 di Yokohama infatti sono delle gomme invernali e potete vederlo benissimo anche da questo simbolino qua, ovvero il fiocco di neve, all'interno della montagna. E' un simbolo che contraddistingue quindi tutti questi tipi di pneumatici adatti alla stagione più rigida dell'anno. Inoltre parlando sempre della sigla, Blue Heart identifica un'ecocompatibilità della gomma, cioè dalla produzione fino al riciclo e allo smaltimento, questo tipo di pneumatico risulta molto compatibile con l'ambiente, quindi nel massimo rispetto delle regole ambientali. Sempre parlando della sua configurazione possiamo notare una ampia tassellatura con delle scanalature molto pronunciate che aiutano quindi la gomma ad avere la massima presa su tutti i fondi, in particolare stiamo parlando di neve e ghiaccio. Ed inoltre se parliamo invece di materiali si contraddistinguono due tipologie, ovvero la prima è la silica che consente di avere un range di temperature più ampie, entro cui il pneumatico è più performante, quindi sia quando fa leggermente più caldo nonostante la stagione invernale, sino alle temperature più rigide quando si scende sotto lo zero. Ed inoltre si ha un'altra componente, questa è data, pensate un po', dall'olio degli agrumi che viene inserito dentro, quindi nel compound principale dello pneumatico e consente di avere una mescola complessivamente più morbida anche quando le temperature si fanno più basse. Ed ora saliamo a bordo della nostra Audi TT per provare i nuovi pneumatici invernali di Yokohama. L'opneumatico della casa giapponese vuole offrire ai propri utenti una qualità superiore, sviluppata con tecnologia all'avanguardia, in grado di assicurare alte prestazioni anche in situazioni di guida critiche. Quale modo migliore dunque se non testarlo su una delle coupé più apprezzate al mondo? Dopo pochi chilometri la differenza rispetto alle gomme stive si sente. La V905 ha un disegno che massimizza l'effetto spigolo, garantendo ottima aderenza anche su fondi innevati e ghiacciati. Inoltre la carcassa è stata irrigidita per aumentarne la tenuta in curva. L'opneumatico di Yokohama comunque veste tutte le taglie, con ben 123 misure a listino e grandezze che vanno dal raggio 15 sino al 21. Per verificare che la vostra auto possa montarle potete andare su yokohama.it